Allora, riecoci insieme. Allora, oggi continuiamo ovviamente il discorso sui casi d'uso. Prima solo di tuffarci nel diagramma dei casi d'uso, vi ricordo solo le particolarità di questa settimana. Domani ci sarà come al solito il laboratorio numero 4. Giovedì invece, nella prima ora, cioè nella prima ora e mezza, dalle 16 alle 17.30, faremo in aula il laboratorio 5. Vedremo insieme la soluzione, discuteremo la soluzione del laboratorio 5. Vi ricordo ancora, ve l'avevo accendato giovedì scorso, vi provare a farlo in modo da poter avere domande o richiesti di chiarimenti, in modo da poter, diciamo così, sopperire in aula al laboratorio che abbiamo perso il primo novembre. Dalla settimana prossima, poi invece, si regolarizzerà di nuovo tutto, perché abbiamo, siamo così, recuperato lo sfasamento. Giovedì scorso invece ci siamo lasciati su questa figura, in cui abbiamo cominciato a vedere come i casi d'uso, intesi come l'insieme dei comportamenti che il sistema informativo può permettere agli utenti di avere, si possono rappresentare attraverso un diagramma grafico, anche qui, e sarà l'oggetto della chiacchierata di oggi. Il diagramma grafico chiaramente è solamente uno degli aspetti, è l'aspetto più esterno, è l'indice. Il diagramma dei casi d'uso mi dà un colpo d'occhio, la visione di insieme, su quelle che sono tutti i casi d'uso supportati dal sistema per ciascuno degli attori. Poi però bisognerà entrare nel dettaglio. Allora, una modalità per entrare nel dettaglio, perché la frase ricarica oppure visualizza il saldo oppure preleva denaro, mi dà un'idea su qual è l'obiettivo dell'attore. Ma poi bisogna poi capire come avviene, spiegare come avviene poi questa interazione. Quindi immaginiamo che dentro ciascuno di questi casi d'uso ci sia poi una spiegazione, che può essere o una spiegazione più breve o una spiegazione più estesa. Adesso noi, laboratorio 6, vi chiederemo di fare solamente delle spiegazioni brevi, perché poi nel frattempo impareremo, che sarà il capitolo successivo, come realizzare invece le descrizioni estese dei contenuti di un caso d'uso. Per una descrizione breve intendiamo una meno di mezza pagina, in un certo senso, di spiegazione, che dia l'idea di che cosa viene fatto, di quali sono le azioni che compie l'utente, in questo caso l'attore primario, per poter raggiungere l'obiettivo. Raccontato anche qua in modo molto sintetico e diretto. Questi sono degli esempi, che non ci interessa analizzarli dal punto di vista di tutti i dettagli di ciò che c'è scritto, però è un modo di poter apprezzare il livello di dettaglio di cui stiamo parlando quando parliamo di una descrizione breve, un brief di un caso d'uso. Qui vedete che lo stile di scrittura è molto spezzettato, però questo dipende poi da siascuno come intende scrivere. Sono una serie di frasi, ad esempio dice, l'attore primario, prendo la seconda. L'attore primario è lo staff di produzione che ha come obiettivo quello di preparare dei dati cartografici, adesso non ci interessa neanche cosa sono. Questo è l'obiettivo che si è dato e la descrizione breve dice le azioni che vengono compiute. Lo staff, quindi l'attore primario, converte dei dati, li convalida, li corregge per poterli poi fondere col database e questi dati vengono catalogati e memorizzati, eccetera, eccetera. Qui sto descrivendo cosa fa l'attore primario, ovviamente le azioni dell'attore primario saranno supportate dal sistema informativo. Come già dicevamo la settimana scorsa, io do una descrizione del sistema informativo ma visto negli occhi degli utenti. Quindi per questo qua, in questo caso, il sistema non emerge. Poi noi, come dicevo, impareremo invece a fare una descrizione più dettagliata in cui andremo a distinguere effettivamente che cosa fa l'utente e che cosa fa il sistema nelle singole interazioni di cui è composto il caso d'uso. E quindi avremo un livello dettagliato, noi lo chiameremo una narrativa, in cui si va effettivamente ad analizzare attraverso vari campi, varie informazioni, questi campi che sono citati qua, che vanno a raccogliere, a dettagliare essenzialmente tutti gli aspetti legati a quel caso d'uso, seguendo un template, un modello che per noi, diciamo così, sarà sempre lo stesso. Quindi ci permette poi di entrare in una descrizione dettagliata. Ma questo lo faremo dopo. Partiamo prima dall'indice, dal diagramma. Quindi il punto di partenza, quindi noi abbiamo deciso, facciamo un micro passo indietro, i requisiti funzionali, all'interno di un documento dei requisiti, i requisiti funzionali li esprimiamo preferibilmente attraverso il formaggio di caso d'uso. Il formaggio di caso d'uso ha due livelli. Il primo è un diagramma, una serie di diagrammi che elencano, descrivono i casi d'uso, gli attori e gli obiettivi. Attore, obiettivo, caso d'uso. E poi ci sarà per ciascuno di questi casi d'uso che abbiamo elencato nel diagramma, una descrizione di dettaglio. Questo, l'insieme di tutte queste informazioni, costituisce buona parte dei nostri requisiti funzionali. Come accennavo già la volta scorsa, gli unici requisiti funzionali che rimangono fuori, cioè non si possono esprimere in questo metodo, sono relativi alle funzionalità che il sistema possiede, ma che non coinvolgono in nessun modo l'interazione con l'utente. E allora ovviamente attraverso un caso d'uso non si può descrivere. Questi casi d'uso li rappresentiamo ancora una volta attraverso un formalismo che è tratto dallo standard UML, quindi l'UML tra i vari suoi diagrammi ne ha anche uno che si chiama proprio Use Case Diagram, che nel nostro amico Ashta ovviamente ce lo troviamo nominato come Use Case Diagram, messo qua, in una seconda posizione. Quindi un altro tipo di diagramma diverso insieme ai classi e all'activity, il diagramma dei casi d'uso. Quali sono anche quegli ingredienti, non assintassi, e poi il significato di vari ingredienti sintattici all'interno dei casi d'uso? Beh, i due ingredienti principali sono gli attori e il caso d'uso stesso. Quindi l'attore è colui che interagisce con il sistema, dove interagire vuol dire scambiare informazioni, scambiare informazioni nei due sensi sempre, quindi dall'attore verso il sistema e dal sistema verso l'attore. E questo può essere o un attore, lo chiameremo primario, o un attore di supporto secondario, seconda poi del singolo caso d'uso, ma noi innanzitutto identifichiamo quelli che sono l'entità, gli utenti principalmente, che interagisce con il sistema. In alcuni casi, l'abbiamo già accennato la volta scorsa, l'attore potrebbe anche essere un'entità non umana, non animata, non una persona, ma un altro sistema informativo che interagisce con il sistema. In questo caso, un po' impropriamente, ma lo possiamo modellare nello stesso modo. È chiaro che diventa più difficile attribuire delle intenzioni, degli obiettivi a una macchina, piuttosto che a un utente. Quindi, l'aspetto essenziale affinché possiamo chiamare attore una persona è che effettivamente avvenga uno scambio di informazioni direttamente col sistema. Quindi, se io sto solo a guardare, non sono un attore, primario, se io attraverso una porta di un supermercato e su quella porta c'è un contapersone, come c'è molto spesso, che conta il numero di persone che passano, io in quel momento non sono un attore del sistema, perché è vero che le mie azioni, il fatto di passare di lì, ha fornito un dato al sistema, il fatto che io sono passato. Però è una interazione parziale, monodirezionale, non mi coinvolge, non mi permette di raggiungere un mio obiettivo nell'interazione col sistema, il mio obiettivo magari è entrare in quel negozio, ma non è fare qualcosa col sistema o ottenere un risultato con il sistema. Così come se vado alla stazione e vedo gli orari dei treni che partono o che non partono, sto in qualche modo ricevendo informazioni dal sistema, però di nuovo è un'interazione unidirezionale in questo caso. Io sono passivo, non sto interagendo col sistema. Interazione è per sua definizione un'attività bidirezionale. Io interagisco perché fornisco informazioni al sistema e il sistema di conseguenza all'informazione che ho fornito mi fornisce altri dati, mi fornisce altre informazioni di ritorno sulla base delle quali potrò io fare le mie scelte, fare altre azioni e così via. Cioè si richiede un dialogo, chiamiamolo così, tra le informazioni che l'utente possiede, le informazioni che il sistema possiede e che in qualche modo si adattano nei vari passaggi di questa conversazione, di questo scambio di informazioni fino a raggiungere il punto d'arrivo che è l'obiettivo del caso d'uso, l'obiettivo di interazione. quindi quando parliamo di interazione di scambio di informazioni stiamo pensando a uno scambio nelle due direzioni altrimenti sono sistemi di monitoraggio passivi in cui l'utente è più passivo. Il sistema non interagisce con l'utente ma fa semplicemente delle azioni meccaniche di pubblicazione di risultati di numeri indipendentemente dal fatto che qualcuno li legga o di chi li stia leggendo o perché li stia leggendo. Invece qui abbiamo un sistema che sta supportando l'utente nel raggiungere un obiettivo quindi sappiamo chi è l'utente e sappiamo cosa vuole fare. Ecco questo obiettivo lo incapsuliamo che l'utente vuole raggiungere lo incapsuliamo all'interno del caso d'uso della rappresentazione del caso d'uso che è rappresentata semplicemente tramite un ovale un'ellisse che rappresenta una delle funzionalità del sistema. Cioè il sistema può fare tante bellissime cose ma questa in particolare la deve fare deve permettere a quegli utenti di eseguire quella funzione in realtà di ottenere quel risultato e quindi la funzionalità del sistema devono permettere agli utenti di ottenere quel risultato e la relazione tra attore e caso d'uso è una relazione di partecipazione cioè noi colleghiamo con una linea con un segmento un attore a un caso d'uso quando quell'attore partecipa partecipa al caso d'uso di solito c'è un attore solo che partecipa in un caso d'uso e lo chiamiamo quindi attore primario qualora ci sia ci siano più attori che interagiscono col sistema nello stesso contesto quasi sempre ci sarà comunque un attore primario e magari una serie uno o più di attori secondari o attori di supporto allora in questo caso se vogliamo indicare che c'è un attore di supporto oltre all'attore primario lo possiamo indicare annotando la relazione dicendo guarda ci sono questi due attori ma questo è quello primario l'altro deve a un certo punto intervenire nell'interazione ma non è lui che possiede l'obiettivo l'attore primario è quello che ha l'obiettivo da raggiungere in cui nell'ultimo passo dell'interazione si può dichiarare soddisfatto di aver raggiunto l'interazione gli attori di supporto lo aiutano a raggiungere l'obiettivo fornendo sbloccando alcuni passaggi fornendo alcune informazioni che possono essere necessarie durante lo svolgimento del caso d'uso la linea tra attore e il caso d'uso solitamente non è orientata cioè semplicemente la riga e basta ma a volte può essere presente una freccia la freccia quando è presente indica chi inizia l'interazione nel caso in cui la freccia vada dall'attore verso il sistema è l'attore che inizia l'interazione cioè il primo passo dicevamo prima una serie di interazioni una serie di scambio di dati ok una serie di scambi c'è uno che comincia uno che dice la prima parola che rompe ghiaccio allora quando c'è la freccia dall'attore verso il sistema è l'attore che compie il primo passo che svolge la prima azione che questo è il caso normale perché se io vado a interagire con il sistema sono io che l'ho deciso e sono io che schiaccio il bottone sposto il mouse accendo il pc apro quella pagina quindi la prima informazione viaggia sempre dall'utente verso il sistema ricordiamoci che il caso d'uso è una funzionalità del sistema quindi rappresenta il sistema informativo quindi questa freccia normalmente è sottintesa quindi quando indichiamo una relazione di partecipazione senza la freccia stiamo sottintendendo che l'attore primario è l'attore che inizia lui l'interazione quindi il primo passo di interazione viene sempre compiuto dall'attore ci sono dei casi invece in cui il primo passo è iniziato dal sistema e l'attore deve rispondere a una sollecitazione solta dal sistema quando suona il telefono perché qualcuno vi sta chiamando o peggio ancora quando suona la sveglia al mattino non siete voi che avete iniziato quell'azione è il telefono che ha iniziato l'azione di suonare e vi obbliga a rispondere con un'azione obbliga per modo di dire perché ovviamente se poi uno non vuole rispondere non risponde però la vostra azione è in risposta ad un'azione che precedentemente il sistema aveva fatto cioè quello di squillare quindi in quel caso non siete voi che avete iniziato o avete deciso adesso ricevere una telefonata o adesso suona una sveglia e quindi faccio qualcosa per ricevere una telefonata non esiste qui voi agite a seguito di un'azione che è stata scatenata causata dal sistema stesso sono rari questi casi perché normalmente si lascia l'utente libero di agire ma in alcuni casi il sistema informa l'utente quando vi arriva una notifica sul cellulare e voi la guardate la cancellate la vedete la cliccate l'azione che fate è in risposta a una prima azione che il sistema informativo ha fatto una prima informazione che vi ha dato e voi rispondete in questo modo quindi queste azioni sono le azioni in cui le interazioni in cui la prima azione viene compiuta dal sistema solitamente sono per gestire condizioni di urgenza condizioni nelle quali sia necessario richiamare l'attenzione dell'utente cioè non è che passate a fianco di un bancomat e lui vi chiama o vi inserisce il ping o cose di questo genere anche se alcune tecniche di marketing vorrebbero cose di questo genere ma per fortuna non prendono piede dato che passi vicino a un cartellone a un negozio e lui ti chiama ti manda un'offerta o cose di questo genere quindi per riassumere il 90% dei casi il primo passo la prima azione la prima interazione parte sempre dall'utente che è colui che sa qual è l'obiettivo darsi in alcuni casi abbiamo il sistema che invece inizia lui l'iniziativa la propria iniziativa la propria programmazione inizia lui a interagire con l'utente e quindi in qualche modo forza l'utente all'interno di un certo obiettivo cioè quando suona il telefono tu sei obbligato a pensare adesso rispondo oppure decidi di non rispondere un attimo prima non te ne fregava niente del telefono dello squillare eccetera ma un attimo dopo ti stanno obbligando a prendere una decisione relativamente a un certo obiettivo quindi in questo caso è il sistema che impone un obiettivo all'utente che deve in qualche modo risolvere in quel modo poi può decidere di accettare rifiutare come sempre l'interazione si può svolgere a seconda dell'azione dell'utente quindi teniamo presente questo più avanti quando faremo la descrizione dettagliata di casi d'uso ci sarà un campo uno dei vari campi che dovremmo indicare che si chiama trigger che ci dice qual è l'azione che fa scatenare l'inizio del caso d'uso dell'interazione e qui normalmente non ci sarà nessun trigger in alcuni casi ci sarà e questo lo indichiamo con questa freccia che va verso l'attore cos'altro possiamo fare in questi diagrammi beh innanzitutto possiamo riconoscere che i casi d'uso volutamente li costruiamo come funzionalità che hanno un senso per l'utente un significato per l'utente quindi rispetto al sistema informativo poveretto che è una macchina sono spesso attività articolate fate di più passaggi non sono attività elementari atomiche semplici ho cliccato un bottone una serie di passaggi allora quando io ho più attività chiamiamole complesse più casi d'uso a cui hanno accesso i vari utenti è molto probabile che alcune porzioni alcuni passaggi di interazione di un caso d'uso siano uguali agli stessi passaggi che servono in un caso d'uso diverso magari il caso d'uso è diverso però una sua parte appunto una sola cioè immaginate operazioni simili fatte da attori quindi da utenti con ruoli diversi allora magari che ne so immaginate fissare l'operazione fissare un appuntamento allora se c'è un attore che è un dirigente allora lui fissa l'appuntamento e diventa automaticamente esecutivo quell'appuntamento se invece qualcun altro un dipendente normale può solo proporre quell'appuntamento e poi sarà qualcun altro che lo deve confermare però sono due casi diversi propone un appuntamento oppure fissa un appuntamento e se hai ovviamente il diritto e il privilegio di farlo ma in entrambi i casi ci sarà la scelta della data dell'ora del luogo che sono gli stessi indipendentemente dal fatto che poi l'appuntamento sia direttamente esecutivo oppure sia solamente una proposta allora in questi due casi d'uso c'è una parte comune allora noi possiamo mettere in evidenza questo il fatto che esistono delle parti comuni all'interno del diagramma dei casi d'uso attraverso una relazione di inclusione quindi un caso d'uso ne include un altro dei passaggi comuni che fanno parte di uno o più di uno di solito se mi faccio un'inclusione perché ne ho più di uno casi d'uso principali che appunto li includono dal punto di vista dell'utente significa semplicemente che all'interno dello sviluppo di questo caso d'uso si troverà a un certo punto lo sviluppo di quest'altro lo sviluppo di una serie di azioni di interazioni che devono essere fatte dal punto di vista del sistema mi dice che io ho tre funzionalità da implementare di cui la terza viene usata dalla prima alla seconda però la posso implementare separatamente testare separatamente perché è comunque una parte comune che viene riusata quindi questo spacchettare questo dettagliare mi aiuta a organizzare meglio le funzioni del sistema riconoscere che dei passaggi dal 3 al 5 di questo caso d'uso e i passaggi dal 6 all'8 di quell'altro non è che si somigliano solo sono proprio gli stessi e allora conviene implementarli a parte perché so che sono sempre gli stessi magari potrebbero anche servire altrove quindi quando è utile si può evidenziare il fatto che esiste una parte di funzioni che sono incluse in una più ampia è molto raro non dico impossibile perché formalismo non lo vieta però è molto raro che in caso d'uso incluso sia esso stesso un caso d'uso un obiettivo di un possa essere un obiettivo di un attore è di solito un passaggio all'interno di un caso d'uso più ampio ma lui esso stesso non è un caso d'uso perché spesso non è di senso compiuto se prendiamo l'esempio di prima il caso d'uso incluso sarebbe scegli una data e un'ora e si ma per far che cioè non è che un utente arriva lì adesso scelga una data si va bene puoi avere dei problemi tuoi ma non è un obiettivo sensato di senso compiuto che porta a un risultato all'interno del sistema quella data deve servire a qualche cos'altro a un contesto più grande un contesto in cui c'è un inizio e una fine e un'attività che viene svolta quindi è molto improbabile che un caso d'uso sia contemporaneamente un'attività di senso compiuto e anche un passaggio di un'attività di senso compiuto più ampia devo dire che io negli anni mi sono sforzato ma ad esempio i furbi non ho mai trovati per cui non è una regola assoluta però di solito i casi d'uso incluso vedrete che non fanno parte di nessun non sono in relazione di partecipazione con nessun attore non sono veri casi d'uso sono porzioni di casi d'uso che possono essere inclusi è un po' come abbiamo un programma principale che parte dalla funzione main e quello è il programma e quello fa certe cose e poi questa funzione richiama a sua volta le sottofunzioni ma le sottofunzioni da sole non servono a nulla se non hanno il main che le richiama poi queste sottofunzioni possono essere utili perché magari sono riusate da più programmi diversi questo sì quindi questa è la relazione di inclusione che si indica con queste frecce dal caso d'uso che include al caso d'uso che viene incluso dal grande al piccolo appunto io prendo te io includo te questa è la direzione della freccia poi ci sono altre relazioni sempre che possono essere usate in un diagramma di casi d'uso un paio di altri non è molto ricco come formalismo relativamente semplice e la prima è quella di generalizzazione tra attori quindi sulla parte destra qui abbiamo due casi d'uso diversi questo è in relazione con un attore e questo è in relazione con un altro attore questo attore viene chiamato venditore l'altro attore sotto è il supervisore e tra questi due attori c'è una relazione di estensione di generalizzazione che dice che tutto ciò che un venditore può fare il supervisore anche lo può fare ma in più il supervisore ha delle caratteristiche in più quindi la classica relazione di ereditarietà io ho un tipo di attore che può comportarsi a pieno titolo come un altro attore più generico ma lui è più specializzato e quindi può fare delle cose in più questa freccia indica che il supervisore può fare e quindi può partecipare a qualunque caso d'uso a cui già partecipa il venditore e in più a qualche caso d'uso come questo stabilire l'entità delle linee di credito che può invece usare solamente lui quindi è abbastanza normale avere nei sistemi informativi una sorta di gerarchia di ruoli c'è un utente che può fare tutto può fare più cose perché è più alto nella catena gerarchica invece se è un utente meno privilegiato addirittura un utente anonimo che non si è registrato sta usando il sito senza aver fornito i dati login che ha accesso a delle funzionalità di base minime a cui però comunque hanno accesso tutti ogni volta che salgo diciamo così di un gradino nella catena della gerarchia avrò accesso a delle funzionalità in più facciamo solo attenzione che queste frecce viaggiano in senso inverso rispetto alla gerarchia ok perché se il supervisore è più in alto della gerarchia rispetto alle frecce cioè la freccia va dall'alto verso il basso della gerarchia in qualche modo chi è da un lato è più in alto nella gerarchia e può fare più cose e chi è il destinatario della freccia è più in basso della gerarchia e quindi può fare meno cose normalmente allora questo è se vogliamo un artificio che ci permette di pensare bene ai ruoli che abbiamo alle tipologie di figure che abbiamo alle relazioni che ci sono tra queste figure e anche di semplificare poi il caso d'uso perché evito di ripetere lo stesso caso d'uso più volte se riesco a ricondurmi al fatto che tu hai accesso a questo perché sei anche di quel tipo l'ultima l'ultimo ingrediente poi passiamo a un esempio di sintassi di relazione che possiamo che definiamo tra i diagrammi di casi d'uso è una relazione di estensione questa volta è una relazione tra casi d'uso cosa dice la relazione si indica con una freccia con su scritto extend indica che un caso d'uso ne stende un altro qui c'è l'esempio di un cliente che può fare due cose su un servizio su un sistema informativo dare un'occhiata ai prodotti quindi sfoglia il catalogo oppure acquistare un prodotto sono due modalità diverse da un altro guardo mi faccio un'idea vedo confronto dall'altro vado colpo sicuro voglio comprare un prodotto inserisco i dati per il pagamento i dati per la spedizione eccetera eccetera sono due obiettivi diversi un conto è vado a dare un'occhiata mi siedo so che come il mio obiettivo è quello di conoscere i prodotti d'altra parte invece ho già l'informazione su un prodotto e voglio acquistarlo quindi voglio piazzare l'ordine sono due cose diverse però è abbastanza normale che queste due casi d'uso diversi perché rispondono obiettivi diversi e quindi poi si svolgono in modalità diverse se le azioni che faccio i clic che faccio l'interfaccia che vedo per sfogliare i prodotti sono completamente diverse da quelle serie di pagine obbligatorie che devo riempire per poter diciamo così perfezionare un ordine ma è abbastanza normale che mentre sto guardando i prodotti possa decidere di acquistarne uno e allora mentre sto navigando il sito mentre sto guardando i prodotti cambio il mio obiettivo l'obiettivo da sfogliare il catalogo diventa ah ma questo lo voglio comprare quindi adesso voglio comprare questo prodotto adesso poi nei siti di commercio veri e propri ho il carrello che separa le due parti quindi quando sono su un prodotto lo metto nel carrello poi più tardi decido di comprare allora vado sulla pagina del carrello immaginiamo che non ci sia allora vuol dire che sono sulla pagina di un prodotto e decido di comprarlo quel prodotto lì allora vuol dire perché non è che spengo il computer vado a casa accendo un altro computer e lo compro quello che avevo visto prima in ufficio sì posso anche farlo però in quel caso ho attivato un caso d'uso sfoglia i prodotti in ufficio poi vado a casa faccio l'altra funzione e compra di un prodotto che già conosco qui stiamo pensando a un continuum cioè mentre sto facendo mentre sto svolgendo un caso d'uso a un certo punto è possibile che cambi obiettivo e passi a fare un caso d'uso diverso un caso d'uso diverso che in questo caso è quello dell'acquisto che è in questo modo un'estensione di quello precedente cioè nel caso d'uso precedente io sfogliavo i prodotti ma questa mia attività di sfogliare prodotti si può estendere saltando sul caso d'uso di acquistare prodotto io perché vabbè il fatto che l'utente nella sua mente cambi obiettivi lo può sempre fare no non ho nessun controllo su questo ma il fatto che io lo rappresenti qua mi serve per esplicitare il fatto che io voglio che il sistema informativo permette faciliti all'utente di passare dall'uno all'altro anzi mi verrebbe da dire nel caso di un e-commerce quella freccia lì è la ragione di esistenza dell'e-commerce stesso cioè se non riesco a convertire il browsing in acquisto non sto facendo niente vabbè però questo dipende dall'applicazione ok quindi immaginiamo un utente che inizia a fare un caso d'uso e poi mentre lo sta facendo si accorge che a quel punto gli verrebbe bene potrebbe essere interessato a proseguire in una direzione diversa quindi il primo caso d'uso non lo termina neppure non ha bisogno di arrivare alla fine perché nel frattempo è passato su un altro la freccia va in una direzione che a prima vista è anti-intuitiva perché la freccia va dal dal caso d'uso che estende verso il caso d'uso che viene esteso il caso d'uso che viene esteso è però quello in cui si trovava l'utente quando decide si passava sull'altro sull'estensione quindi l'acquisto è un'estensione dello sfogliare la freccia va da acquista estende lo sfogliare vuol dire che l'utente entra in questo caso d'uso fa un po' di cose e poi decide di passare diciamo controcorrente rispetto alla freccia passare a fare il caso d'uso esteso quindi bisogna solo abituarsi un attimo nel caso dell'inclusione la freccia segue un po' le azioni dell'utente l'utente fa un po' di cose qua e poi passa nel caso incluso e poi quando ha terminato torna su e continua quindi l'azione dell'utente segue la direzione della freccia nel caso dell'estensione invece il percorso dell'utente va a ritroso rispetto alla freccia l'altra cosa abbastanza diversa l'estensione e l'inclusione sono due cose concettualmente abbastanza diverse l'altra cosa abbastanza diversa è che parliamo di estensione quando ha due casi d'uso perfettamente validi e sia naturale normale possibile preferibile permette all'utente di passare l'uno all'altro ma questi casi d'uso esistono indipendentemente l'utente può decidere di fare l'uno o l'altro separatamente e quindi vedrete che in entrambi i casi quell'utente può fare solo sfoglia catalogo come obiettivo oppure può avere come obiettivo solamente l'acquisto di prodotti quindi sono casi d'uso veri a cui qualche attore partecipa a differenza se vogliamo proprio fare differenza rispetto a qua dove avevamo detto che troviamo molto difficile che questo caso d'uso incluso sia un caso d'uso compiuto di per sé invece questo secondo caso lo è quindi se vogliamo la differenza è che perché ho detto che byproduct estende browse catalog e non ho detto che browse catalog include byproduct beh prima di tutto perché byproduct è un obiettivo suo diverso da quello di browse catalog e quindi è un caso tutto completo quindi se abbiamo se vi capita di avere il dubbio che due casi d'uso sia in relazione di inclusione di estensione provate a chiedervi se il caso d'uso è può esistere indipendentemente dall'altro può avere un senso indipendentemente dall'altro può costituire un obiettivo dell'utente indipendentemente dall'altro obiettivo se sì allora sicuramente può esserci una relazione di estensione se no può esserci una relazione di inclusione oppure non c'è niente non c'è nessuna relazione perché magari non ci interessa ci sembrava solo allora questi ingredienti si mettono insieme nella costruzione di diagrammi adesso noi adesso noi ci facciamo il nostro adesso noi ci facciamo il nostro sul nostro esempietto ma per avere un'idea di un diagramma finito è un diagramma nel quale ci sono più casi d'uso ci sono più attori magari legati tra di loro da relazioni di gearchia e più relazioni tra questi casi d'uso questo è un diagramma che ci dà un'idea di una serie di funzioni che il sistema informativo implementa una serie di attori che dovranno interagire con il sistema informativo e ci dice quale attore deve essere abilitato a fare quale tipo di operazioni e viceversa la definizione che abbiamo dato di caso d'uso cioè un obiettivo che l'attore si prefigge in realtà è un po' vaga si ho capito ma l'obiettivo a che livello di dettaglio lo indichiamo è un obiettivo generale come dire l'utente vuole gestire le operazioni nel proprio conto corrente bancario che è un obiettivo vado ah voglio andare a gestire il conto corrente e allora lì ci faccio un bonifico ci faccio un vedo il saldo faccio un prestito eccetera oppure può essere un'azione più specifica voglio fare un bonifico quindi entrambe queste descrizioni voglio gestire il conto corrente voglio fare un bonifico sono degli user goal cioè sono dei goal degli obiettivi e quindi possono essere descritti come caso d'uso a cui poi descriviamo quali attori partecipano ecco per noi per distinguere questi due livelli chiameremo i primi casi d'uso a livello summary generali di sommario e i secondi casi d'uso a livello user goal user goal è il livello normale cui abbiamo fatto gli esempi finora quelli che hanno un obiettivo specifico concreto per l'utente però può essere utile soprattutto su sistemi complessi non avere un elenco di 100 diversi casi d'uso a livello user goal ma questi 100 raggrupparli in 5-6 aree tematiche principali che poi sono composte di casi d'uso più dettagliati quindi nel caso in cui i casi d'uso siano molti si tende a riunire un insieme di casi d'uso a livello user goal in un unico caso d'uso di livello più alto diciamo summary che riassume le funzionalità del sistema informativo in una determinata area che sono gestione del profilo gestione del conto corrente gestione delle comunicazioni attivazione di promozioni sono aree generali poi all'interno di alcune di queste aree le singole azioni che posso fare sono diverse quindi a livello summary spesso il verbo che si usa è gestire perché dentro faccio tante cose diverse relative a un certo tema a livello user goal invece vado a dettagliare le singole azioni che ha senso compiere all'interno di quel tema di quell'area funzionale poi volendo c'è anche un livello di sottofunzione che corrisponde ai casi d'uso inclusi quindi il livello summary contiene dei casi d'uso molto ampi che a loro volta contengono i casi d'uso a livello di gergole è un po' come fosse appunto dividere per aree tematiche per aree funzionali per gruppi di casi d'uso un indice di livello più alto alla fine il summary è l'indice di ciò che c'è a livello successivo quindi ad esempio io ho un cliente che può gestire delle transazioni oppure ottenere delle informazioni quindi ho due aree quelle puramente informative e quelle invece esecutive ad esempio poi mi dite sì ma ho capito qua se il cliente ricerca delle informazioni quali sono le informazioni che ricerca e beh qua non te lo dico te lo dirò a livello più basso a livello di gergole perché a livello di gergole la richiesta di informazioni potranno essere diverse e ciascuno avrà un obiettivo diverso avrà una modalità diversa per essere ottenuta per indicare che un caso d'uso non è ancora concreto non è ancora specifico e quindi non mi dice ancora esattamente quale funzione offre il sistema informativo usiamo questa etichetta summary nella descrizione del caso d'uso stesso quindi ci può essere una prima vista che è la vista di livello summary in cui ho i vari attori che possono avere accesso o meno a seconda che siano collegati alle varie aree funzionali del sistema informativo poi dentro queste aree funzionali ci sono gli user goal che a questo punto descrivono effettivamente l'attività dell'attore primario per ottenere un risultato concreto attraverso l'interazione con il sistema e questi sono quelli che abbiamo implicitamente descritto finora in cui c'è un obiettivo concreto e l'utente che è uno che è l'attore primario quando ha raggiunto quell'obiettivo è contento e se ne va mentre quelli di vero sub function dicevamo sono più legati alle inclusioni quindi quando abbiamo un include adesso qui avevo un esempio se non ho sbaglio esatto dove ho vari casi d'uso che sono le azioni preleva i soldi ricarica il cellulare mostra il saldo che possono una volta comprendere includere degli altri sotto casi d'uso che sono etichettati qui come sub function allora questo user goal e sub function fanno parte un po' di etichette implicite sottintese nel senso che noi normalmente possiamo lasciare sottintesa l'etichetta user goal se non diciamo nulla per noi un caso d'uso è un caso d'uso di livello user goal se parliamo di un livello summary lo diciamo esplicitamente implicitamente invece sarà sempre user goal e il fatto che quando faccio un include dall'altra parte ci sia una sub function anche questo è implicito sub function perché non è un caso d'uso vero indipendente ma è solamente subordinato al fatto di essere lui esiste subordinatamente al fatto che è incluso all'interno di un altro caso d'uso altrimenti da solo non avrebbe senso ok vediamo un po' nel nostro caso del nostro hackathon cosa possiamo costruire come possiamo esprimere alcune alcune delle funzionalità del sistema allora le domande a cui dobbiamo rispondere alla fine sono chi sono gli utenti chi sono gli attori eventualmente uno bis che relazione c'è tra questi attori quali sono i casi d'uso due se sono pochi la domanda dice semplicemente quali sono i casi d'uso a livello di user goal se invece fossero molti potremmo spezzarle in due quali sono i casi d'uso a livello summary e poi all'interno di ciascun caso d'uso a livello summary quali sono quelli a livello di user goal la seconda domanda la terza domanda è quali attori partecipano a quali casi d'uso quindi quali sono le priorità i permessi d'uso chi può fare che cosa e poi la quarta domanda è che relazioni eventualmente ci sono tra i casi d'uso di estensione o di inclusione nel caso di un sistema complesso cosa facciamo di solito facciamo un diagramma dei casi d'uso a livello summary in cui includiamo solamente i livelli summary e poi per ciascuno di questi summary facciamo un diagramma separato a livello user goal dei casi d'uso a livello user goal adesso l'esempio dell'hackathon non è così complicato ma per motivi didattici possiamo pensare già di organizzarlo così quindi pensiamo che il primo diagramma di casi d'uso lo chiamiamo summary qua una volta dove ha comp... pardon questo compariva ma non compare più non lo fa vedere qui e ragioniamo su quelle che sono a livello summary le aree funzionali principali del sistema e gli attori in generale del sistema allora gli attori del sistema quali sono? li abbiamo citati già più volte nell'attivity diagram in qualche modo abbiamo già delle idee perché c'è l'organizzatore il giudice e il partecipante allora quando io ho provato a scrivere organizzatore in realtà Asta mi ha dato un errore perché mi dice no caro organizzatore è un nome che hai già usato nel tuo modello è una tabella del modello concettuale allora caro caro tu caro me stai confondendo quello che è un ruolo di un umano con le informazioni che sono nel modello concettuale su quell'umano su quella persona allora io ti impedisco dice Asta di chiamare le due cose nello stesso modo perché sono due cose diverse allora devi darmi un nome che non sia lo stesso nome di un dato questo è il nome di un ruolo allora se vogliamo ricordarcelo io a volte uso act come actor come abbreviazione organizzatore quindi il motivo per cui me lo vieta è che o sto parlando di un ruolo di un utente quindi una persona oppure sto parlando di un dato ma non possono essere la stessa cosa quindi l'organizzatore poi abbiamo il giudice poi abbiamo il partecipante io li metto qua uno sotto l'altro poi vediamo abbiamo altre figure che possono partecipare che possono interagire con il nostro sistema informativo beh forse può esserci il pubblico c'è un utente anonimo un utente non autenticato generico poi non so se gli facciamo fare qualcosa questo attore no? diciamo per ora siamo alla prima domanda quali sono gli attori nel activity diagram perché poi vale barare che poi in realtà non è barare ma è vedere se si è coerenti gli attori corrispondono abbastanza in modo quasi uno a uno con i soggetti che avevamo indicato nell'attivity diagram per dire chi è responsabile là le avevano chiamate i ruoli o responsabilità delle variazioni chi è responsabile di interagire con il sistema per raggiungere un certo obiettivo e chi è responsabile di fare una certa azione ovviamente è la stessa persona che a un certo momento si darà l'obiettivo di compiere quella azione con eccezione ad esempio il sistema informativo che non è mai un attore perché è la controparte degli attori e poi c'era anche se non ricordo male un altro soggetto che avevamo usato qua che si chiamava team quindi alcune volte in alcune azioni avevamo detto il partecipante fa certe cose altre volte invece abbiamo detto un team fa certe cose un singolo aggiornamento da parte di un singolo team quindi devo aggiungere un attore che si chiama team secondo me no perché in realtà la responsabilità è di un team quella di caricare un aggiornamento ma poi chi lo fa chi interagisce col sistema informativo è comunque un membro del team qui non siamo entrati nel dettaglio il testo non ce lo chiedeva noi non sappiamo se il caricamento degli aggiornamenti delle informazioni del progetto finale eccetera ad hackathon aperto debba venire da parte di un qualunque membro del team oppure ci sia un membro del team che è diciamo il team leader il coordinatore colui che deve caricare gli aggiornamenti allora ovviamente sono possibili entrambi i casi dipende come vogliamo strutturare il sistema ma chi carica gli aggiornamenti non è mai il team perché il team non ha un nome un cognome non è riconoscibile dal sistema il team è fatto di partecipanti al massimo possiamo decidere che tra i vari partecipanti ce ne sono alcuni che sono team leader cosa ho scritto e allora a questi ultimi attori potranno essere permesse azioni diverse che ai partecipanti in generale non sono permesse poi sta a noi decidere allora in questo caso in cui ho degli utenti di un certo tipo e alcuni utenti dello stesso tipo ma che fanno delle funzioni in più avrò ovviamente una relazione di generalizzazione che dirà che un team leader è anche un partecipante solo che quando devono essere fatte certe operazioni che sono relative al team le deve fare per forza il team leader ma tutto ciò che può fare un partecipante il team leader essendo anche lui un partecipante ovviamente lo potrà fare poi sta a noi decidere se l'azione di carica un aggiornamento sia un azione a cui è un caso duro a cui può accedere qualunque partecipante o solamente un team leader a seconda di come tracciamo la freccia stiamo progettando sistemi che si comportano in modo diverso altre relazioni ovviamente qualunque utente riconosciuto nel sistema non odiatemi qualunque utente riconosciuto nel sistema può fare anche tutte le operazioni che un utente non ancora riconosciuto può fare cioè vuol dire che qualunque utente è un caso particolare di un utente generico quindi se io ho un attore che è l'attore anonimo pubblico generico cioè ciò che fate voi con ciò che vedete voi quale funzionalità vedete nel sito se non siete registrati vedrete l'elenco degli hackathon vedrete il bottone registrati e vedrete magari i risultati degli hackathon precedenti queste tre cose le vedono tutti anche il giudice può vedere perché lui quando è diventato giudice non può più vedere l'elenco degli hackathon precedenti o futuri no può continuare a vedere ok l'utente che riceve più frecce è di solito il più sfigato di tutti è quello di cui tutti comunque possono fare le cose ma ne possono fare di più tra gli altri organizzatore giudice partecipante invece non ci sono relazioni di generalizzazione anche se in qualche modo riconosciamo una certa gerarchia organizzativa l'organizzatore è più importante del giudice e il giudice è più importante tra virgolette del partecipante ma non possiamo dire che l'organizzatore è un giudice nel senso che l'organizzatore può fare le azioni sul sistema informativo che fa normalmente il giudice no ne fa delle altre giusto? se il giudice può dare un voto l'organizzatore non può dare un voto a un team non può non è il suo ruolo e quindi l'organizzatore non è un giudice una freccia da organizzatore a giudice sarebbe sbagliata così come da giudice a partecipante il giudice non è un partecipante non compone un team non carica degli aggiornamenti lui li vota quindi attenzione che queste frecce non indicano chi è più importante di chi indicano semplicemente chi può fare le azioni che anche l'altro può fare ok ok questo è a livello di attori e a livello summary quindi i casi d'uso a livello summary sono le macro aree funzionali in cui il sistema informativo sarà organizzato le macro funzionalità allora come macro funzionalità io avrò sicuramente diciamo una gestione dell'hackathon che al suo interno comprende tante cose definisci l'hackathon definisci l'attro inizio fallo aprire fallo iniziare fallo finire eccetera e ricordiamoci che è un caso d'uso a livello summary quindi lo scriviamo qua dentro l'etichetta stereotype stereotype è una parola strana di di uml che indica semplicemente la specializzazione di quell'oggetto quindi qualunque lo trovate ovunque in ashta qualunque elemento di uml può essere personalizzato appiccicando di un'etichetta che si chiama stereotipo una o più etichette in realtà quindi in questo caso sarà l'organizzatore che gestisce l'hackathon che avrà accesso a una serie di funzionalità di gestione dell'hackathon il giudice avrà accesso a delle funzionalità cosa fanno i giudici beh innanzitutto accettano o meno di partecipare all'hackathon e poi danno le valutazioni quindi ci sarà tutta una parte relativa alla gestione delle iscrizioni ma qui non voglio ancora dare tutto il dettaglio indico le macro aree siamo a livello summary e questa gestione delle iscrizioni la faranno i giudici ma la faranno anche i partecipanti in un modo diverso però le funzioni relativa all'iscrizione cioè mi iscrivo carico il profilo eccetera eccetera sono comuni il giudice magari lo fa perché riceve un invito e poi si iscrive il partecipante magari si iscrive di sua spontanea volontà ma poi ci sono una certa serie di funzioni che si somigliano alcuni saranno identiche altri no le mettiamo tutte lì dentro vuol dire che l'insieme dei casi d'uso a livello user goal che troveremo sotto il cappello gestione delle iscrizioni alcuni avranno come attore primario il giudice altri avranno come attore primario il partecipante oppure indifferentemente l'uno o l'altro poi però i giudici hanno anche un'altra cosa importante da fare che è quella della valutazione anche questo è un area summary perché la valutazione vuol dire almeno due cose dare un commento ai stati di avanzamento lavori e dare un voto finale ai progetti e questa è un'area a cui ha accesso solamente il giudice l'organizzatore non lo deve vedere il team non lo deve vedere il partecipante al team non lo deve vedere e i partecipanti possono anche loro a fare due cose che sono essenzialmente la prima nella parte diciamo precedente all'inizio dell'hackathon la formazione dei team quindi io ti invito ti accetto riprovo eccetera eccetera quel processo che abbiamo visto e poi invece durante l'hackathon caricano i lavori sono due cose abbastanza diverse quindi mi sposto mi faccio un po' di spazio avrò un caso d'uso per diciamo la formazione team anche questo non è un'azione unica è un insieme di azioni possibili quindi siamo ancora a livello summary e poi abbiamo invece il caricamento dei risultati quindi un altro caso d'uso che è caricamento progetto e adesso decidiamo se il caricamento del progetto lo può fare solo il team leader oppure lo può fare un qualunque partecipante a seconda di chi colleghiamo a questo caso d'uso stiamo decidendo delle regole di funzionamento diverse del sistema allora per dare una ragione di essere al team leader proviamo a metterlo così e poi c'è quel poveretto lassù dell'utente pubblico che avrà accesso a un'area chiamiamo di consultazione l'area pubblica e anche questo ovviamente la definiamo summary in questo esercizio non ce ne può fregare di meno perché non ne parlano ma ci sarà quindi qui abbiamo la mappa delle macro funzioni parlavamo di requisiti funzionali queste sono le aree funzionali in cui è diviso il mio sistema informativo le ho scoperte le ho costruite le ho progettate pensando a le cose che possono fare i miei utenti io ho descritto le funzionalità del sistema ragionando sulle azioni che il sistema permetterà deve permettere agli utenti per poter fare il proprio lavoro adesso per ciascuno di questi casi d'uso a livello summary potrei volendo dare una breve descrizione il brief ma qui non ci stava fate un documento a parte quello che poi ci siamo detti a parole qui dentro ci saranno queste cose ma poi più importante a ciascuno di questi casi d'uso a livello summary corrisponderà un diagramma dei casi d'uso a livello user goal in cui dettagliamo effettivamente quali sono le cose che posso fare quali sono le funzioni che appartengono a quell'area funzionale e che saranno attivabili da quegli utenti da quegli attori che sono collegati a quell'area funzionale e quindi entriamo dentro ciascuno di questi blocchi prendiamo uno formazione team che è facile è piccola caso d'uso formazione team a livello summary si può dettagliare attraverso un ulteriore diagramma dei casi d'uso che questa volta chiamiamo nello stesso modo dell'altro quindi formazione team dove l'attore sappiamo già qual è è solamente il partecipante qui ricordiamo che nel modello c'è sempre l'elenco di tutto ciò che stiamo definendo quindi non devo ridefinire un altro omino posso rispescare quello che ho già quindi qua siamo in un contesto molto più specifico perché ho preso partecipante e non ho preso altro ma perché nel caso d'uso a livello summary questa formazione team è accessibile solamente dagli utenti con ruolo partecipante gli altri non ci sono e quindi qua sono in un contesto che mi dice l'attore primario è definito è il partecipante il contesto l'area funzionale è la formazione dei team ok quali sono le azioni che posso fare allora principalmente ricordiamo il meccanismo di formazione dei team i team nascono perché un utente trova un altro utente e gli chiede di far parte dello stesso team giusto? quindi il caso d'uso principale è che un utente richiede di unirsi al team dell'altro utente questo è un caso d'uso a livello user goal una cosa ben precisa io la richiesta o l'ho fatta o non l'ho fatta quando l'ho fatta e l'ho schiacciato in via non ho più niente da fare posso andare a prendere il caffè è chiaro che ha una fine una conclusione un obiettivo questo caso d'uso e è chiaro quando viene raggiunto questo caso d'uso questo obiettivo nel momento in cui l'utente uno l'utente questo partecipante ha specificato tutte le informazioni che servono e ha confermato la richiesta di unirsi al team dall'altro lato c'è colui che riceve la richiesta e quindi deve confermarla quindi avrò un altro caso d'uso che è accetta la richiesta di iscrizione allora voi direte ma accetta o rifiuta sì ovvio però uno per non avere i titoli mastodontici e l'altro quello per rendere più esplicito qual è l'obiettivo del caso d'uso l'obiettivo che se viene raggiunto dichiara il caso d'uso che ha dichiara che il caso d'uso ha avuto successo quindi è terminato con successo noi nel titolo diciamo sempre la versione positiva qual è il caso migliore accetta poi come l'abbiamo già accennato la volta scorsa nello sviluppo di un caso d'uso potranno essersi degli imprevisti degli alternativi dei percorsi alternativi allora può darsi che questo caso d'uso non si concluda con l'accettazione ma con il rifiuto va bene per un caso d'uso che viene comunque è comunque accessibile a uno degli utenti e può terminare con successo nel caso in cui l'utente accetti può terminare con fallimento nel caso in cui l'utente non accetti però dichiariamo sempre cosa succede qual è l'obiettivo che viene raggiunto in caso di successo e chi può avere accesso a questi caso d'uso sono i vari partecipanti anche loro partecipanti ovviamente purché sia invitato se no non può accettare se nessuno mi ha invitato mi ha richiesto di unirsi a me quando lo posso dire ci sarà poi nella descrizione dettagliata del caso d'uso metterò una condizione in più che dice questo caso d'uso può essere attivato solamente se l'utente è stato invitato il partecipante è stato invitato il diagramma potenzialmente dico che se tu hai il ruolo di partecipante puoi fare quell'azione che poi tu in questo momento specifico la possa effettivamente svolgere dipende da altri fattori così come posso dire che quando tu sei cliente di una banca puoi prelevare il banco ma se poi il saldo è zero nella realtà non puoi prelevare ma il tuo ruolo ti permetterebbe di farlo c'è solo una piccola condizione a contorno che invece te lo impedisce c'è altro che il partecipante fa nella fase di formazione dei team non mi pare volendo potremmo aggiungere un'altra funzionalità ma come faccio a sapere a chi mi voglia unire magari potrei aggiungere una funzionalità di andare a visionare i profili degli altri utenti e degli altri iscritti eventualmente ovviamente devo vedere l'elenco degli iscritti per poter fare una richiesta allora sta un po' a noi dire ma si ovvio vedere l'elenco degli iscritti fa parte della richiesta di unirsi al team cioè il primo passo per poter richiedere di unirmi un team è vedere chi sono le persone iscritte oppure potrei dire no guarda vedere le persone iscritte è un'altra attività separata è indipendente perché potrei mettermi lì guardare gli iscritti oppure potrei già sapere perché lo conosco già da anni che il mio amico si è iscritto quindi non ho bisogno di cercarlo nell'elenco degli iscritti so dire direttamente come si chiama e mando a lui l'invito è ovvio che se le penso separate queste due attività sono l'esempio principale dell'estensione cioè quando visiono gli iscritti c'è uno che mi piace particolarmente schiaccio un bottoncino del tipo voglio invitare voglio andare con lui e quindi dalla funzionalità visione iscritti passo alla funzionalità richiedi di unirsi al team quindi richiedi di unirsi al team può essere un'estensione di visione iscritti quindi qui stiamo dicendo è possibile richiedere di unirsi al team senza necessariamente prima guardare gli iscritti è possibile guardare gli iscritti senza necessariamente richiedersi di unirsi a qualcuno ed è possibile mentre sto guardando gli iscritti facilmente fare una richiesta di iscrizione a qualcuno di questi a quello che sto guardando in quel momento questi tre sono casi d'uso in cui non abbiamo messo nessuno stereotipo nessun commentino nessuna etichetta perché sono casi d'uso abbiamo detto lasciamo sottointeso quando sono casi d'uso a livello user goal attività concrete svolte dai singoli utenti ecco un pochino più complicato sarebbe ad esempio gestione di iscrizioni non tanto complicato nel senso di molto difficile ma perché gestione di iscrizioni è un caso d'uso a livello summary che è utilizzabile associato a due attori diversi quindi lì dentro dentro del caso d'uso a livello più basso a livello user goal avremo non uno ma due attori e quindi per le singole attività dovremo chiederci quale attore ha accesso a quale caso d'uso mentre qua invece finora con il nostro esempio ne avevamo uno solo allora vedete che con questo modo riusciamo a prendere un sistema anche complesso e smontarlo un pezzo per volta analizzarlo una parte per volta e quando siamo a questo livello che è quello più dettagliato e anche quello più critico oramai abbiamo ristretto così tanto l'ambito sappiamo che l'attore sappiamo qual è l'area funzionale da poterci fare domande concrete senza rischio di dimenticarci dei pezzi quindi piuttosto rispetto a descrivere i requisiti funzionali in lunghe pagine di test di tabelle questo è un approccio un pochino più strutturato che ha la stessa informazione alla fine ma ci permette di lavorare in modo più strutturato e tutto sommato anche più visuale e quindi ci dà l'informazione più anche a colpo d'occhio per oggi il nostro tempo è finito quindi casi d'uso della gestione di iscrizione li dobbiamo rimandare alla prossima settimana grazie a tutti